Ciao a tutti amici di Sopils e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla serie di Sequence Generator Pro. Oggi in particolare vedremo come creare una sequenza e avvalerci dello strumento Mosaic Framing Wizard che è davvero molto molto utile per creare per l'appunto il framing, la composizione della vostra immagine che andrete a fotografare durante la vostra sessione. Ma vedremo poi nello specifico anche nella creazione della sequenza di SGP quali sono tutte le varie opzioni e tutte le varie funzionalità ce ne sono alcune davvero molto molto interessanti pertanto non perdiamo tempo e passiamo subito al dunque. Ma prima di partire con il tutorial vero e proprio vi ricordo che se non siete iscritti a questo canale vi invito ad iscrivervi se siete appassionati di astrofotografia perché qui troverete un sacco di tutorial consigli e tecniche varie sulle acquisizioni di immagini astronomiche ed inoltre se volete seguirmi anche sugli altri social come instagram facebook iscrivervi al gruppo facebook che da un po di tempo a questa parte ha preso piede sta prendendo una bellissima forma è una community piccola di poche centinaia al momento di persone parliamo di quasi 500 membri ma sono tutte bravissime persone tutti bravissimi ragazzi molto volenterosi molto appassionati pertanto se volete chiedere consigli o confrontarvi con bravissime astrofotografi e come vi dicevo bravissimi ragazzi e ragazze iscrivetevi perché troverete davvero un bel ambiente detto questo passiamo al concreto questa è l'interfaccia di SGP che ha cambiato licenza da un po di tempo a questa parte è diventato una licenza con scadenza annuale con pagamenti annuali molti hanno contestato questa cosa qui però ecco ragazzi come dicevo anche nella puntata precedente secondo me è un software che vale tutti gli euro che costa nella puntata precedente nella prima puntata di questa serie abbiamo visto un po come configurare il vostro equipaggiamento oggi come vi dicevo vedremo come creare la vostra prima sequenza lo strumento per eccellenza per creare le vostre sequenze in sequence generator pro è sicuramente quello che trovate sotto tools framing and mosaic wizard prima di aprire questo strumento accertatevi che il vostro profilo sia stato caricato e per profilo intendo quello che abbiamo creato nella puntata precedente come vedete io qui ho diversi profili per avere i valori giusti popolati nella parte relativa alla camera che verrà utilizzata per fotografare è importante che abbiate selezionato il vostro profilo corretto perché questi valori si popolino correttamente il profilo che uso solitamente è quello asimile 6 gt ma l'ultima volta stavo utilizzando il mio obiettivo nikon sulla asimile 6 con i filtri zolfo idrogeno ossigeno e quindi come vedete qui ho dei valori popolati con questo profilo quindi la prima cosa che voglio andare a fare è sempre quello di selezionare il mio profilo andare a selezionare asimile 6 gt una volta applicato questo profilo andiamo a riaprire lo strumento framing e mosaic wizard e vedete che adesso la scala dell'immagine pixel su arcosecondi è cambiata e ho i valori corretti per andare inizializzare la mia sequenza qui potete inserire un po tutto nel senso che sgp davvero molto intelligente nella ricerca di solito io inserisco il catalogo la sigla del catalogo e il numero dell'oggetto ad esempio supponiamo in questo periodo siamo a novembre quello che vorrei fare appena questo cielo tornerà sereno perché ragazzi sono due settimane che è coperto nuvolo non riesco a fare assolutamente niente ma una cosa che vorrei fare è la nebulosa california la nebulosa california in questo caso potrei anche scrivere direttamente california nebula e do invio una volta che sgp avrà risolto l'oggetto che avete cercato ve lo mostrerà qui in quest'area centrale e la grandezza o meglio il livello di di scala di zoom del dell'oggetto sarà dettato dal field of view che avete qui avevo il field of view 9 sempre dalla sessione precedente quando era 120 mm ma diciamo che solitamente dipende io so qual è il field of view della mia camera parliamo di circa 1,5 gradi per un grado e qualcosa quindi solitamente metto un field of view di due gradi che mi dà un'idea più sul dettaglio che andrò a prendere quindi vado a mettere field of view 2 e vado nuovamente a risolvere l'immagine mi aspetto ovviamente sgp mi ritornerà qui un'immagine più dettagliata della nebulosa california come potete vedere e nel momento in cui io vado a cliccare su questa immagine andrò a piazzare il mio framing il mio quadrato che andrà a definire la regione di cielo che voglio fotografare nel momento in cui vado a cliccare vedete lui crea questo rettangolo rosso che è la porzione di cielo inquadrata dal mio setup con questa scala di arco secondo su pixel e una cosa molto molto importante che qui in basso avete camera tiles nel caso in cui voi voleste fare ad esempio un mosaico andiamo a risolvere nuovamente la californiana bulla con un field of view di 4 gradi vi faccio capire che cosa intendo questa parte del del mosaico sgp è molto molto figa e funziona davvero molto bene lo vedremo poi quando andrà a creare la sequenza è una cosa davvero super super funzionale vedete qui abbiamo un field of view di 4 nel momento in cui io vado a cliccare vedete che già lui cerca in qualche modo di darmi una porzione di immagine maggiore mi suggerisce un mosaico in base ovviamente alla mia scala d'immagine e al field of view che gli ho specificato in questo caso avrei un mosaico 2x2 come vedete qui avete camera tiles 2x2 ma mettiamo che io voglia semplicemente fare una singola immagine o prendere un dettaglio della nebulosa california andrò a prendere non so questo dettaglio e altra cosa importante è la rotazione della camera io di default so che la mia camera quando inserita e a un mark sul sul terreno ottico per sapere come inserire dritta diciamo la camera sempre allo stesso modo ha una rotazione di 270 gradi però se io ad esempio volessi prendere per oblicola la nebulosa california posso andarli a dire l'angolo che mi interessa in questo caso dovrebbe essere mettiamolo più o meno così l'angolo servirà perché quando andrà a fare il plate solve e questo lo vedremo successivamente lui non solo ci dirà l'errore che c'è da un punto di vista di ascensione retta e declinazione ma anche di angolo di inquadratura quindi questa è una cosa molto molto importante e vedremo sempre successivamente se avete un rotatore il sgp vi ruoterà la camera affinché voi abbiate esattamente questo campo inquadrato con questa angolazione è una cosa davvero favolosa non ho un rotatore purtroppo ma per chi ce l'ha ragazzi è davvero una svolta totale quindi rimettiamo l'angolo di default che solitamente uso io mettiamo 270 gradi diamo invio e supponiamo che io voglia riprendere questa regione della della nebulosa california includiamo anche questa super stella che poi tra l'altro dà origine alla nebulosa california e qui c'è anche una nebulosa scura un dettaglio molto molto particolare e famoso della california e una volta che siamo contenti con la nostra inquadratura diamo create sequence nel momento in cui diamo create sequence facciamo bene attenzione alcuni parametri innanzitutto vabbè date il nome alla vostra sequenza possiamo lasciarlo così california nebula potete o aggiungere questo target alla sequenza attuale oppure potete fare un replace e creare una nuova sequenza ex novo qui invece andate a definire il comportamento sgp quando la sequenza comincia la prima opzione slu and then center on location vuol dire che lui muoverà la montatura affinché punti in quella regione di cielo e applicherà il plate solve per centrare l'oggetto slu invece muoverà senza fare il plate solve e do not move to location vuol dire che lui non farà assolutamente niente voi direte perché dovrei mettere questo ve lo spiegherò a brevissimo io spesso lo lascio così perché preferisco che quando parte la sequenza parta e basta preferisco fare la parte di centramento in uno step precedente infine avete questa questa check box rotator validate camera angle che se voi volete se voi ad esempio avete definito un angolo come vi ho fatto vedere prima e volete fare la validazione di quest'angolo durante il plate solve lui vi dirà di quanto è l'errore e voi dovrete ruotare la camera allora lasciatelo selezionato altrimenti se come me mettete la camera in una posizione già sapete che è quella giusta potete deselezionarlo infine potete decidere di associare questa immagine con la sequenza che verrà creata non l'ho mai fatto sinceramente però può essere una cosa comunque utile e soprattutto in vista futura se un giorno volete riprendere esattamente questo soggetto con la stessa inquadratura e lo stesso field of view quindi questo vi da la possibilità che so l'anno successivo dopo un mese ok di recuperare appieno questa cosa qui una volta dato ok vedete lui da il messaggio success che ha creato la nuova sequenza e qui vi si apre il diciamo la finestra per la gestione della sequenza questa interfaccia molte molte informazioni però andiamo a vedere velocemente una per una innanzitutto vabbè qui avete informazioni sulla sequenza in corso se sta girando o meno qui potete andare a definire la directory dove volete che i vostri file vengano salvati il file name quindi definite una struttura e qui vi da tutte le chiavi che potete utilizzare per dare che so nome del soggetto underscore temperatura underscore gain underscore filtro non so quello che volete voi ci sono un miliardo di parametri insomma è un po a gusto personale per come organizzate voi i file se volete utilizzare un profilo utente andatelo a selezionare qui andrò a selezionare il mio maia infine qui sulla parte di destra avete il modo di collegare la vostra attrezzatura quindi cliccando su connect connetterete tutte le vostre periferiche qui avete informazioni generale quindi tutti gli eventi che sono stati completati e per eventi si intendono questi qui sotto tutti i frame che sono stati completati e infine il tempo rimasto qui invece avete le opzioni di delay e ordine vi spiego come funzionano molto semplicemente delay first vuol dire che voi potete dare un tot di secondi per cui lui deve aspettare prima che parta la sequenza a volte si fa per permettere che so che la montatura si possa assestare nell'inseguimento in ascensione retta e declinazione oppure non so volete far partire la sequenza e poi dovete camminare sul terrazzo per andare dentro casa quindi qui potete inserire un delay delay between invece è il ritardo e ci deve essere tra le pose event order questo è molto importante abbiamo due opzioni rotate through events vuol dire che lui farà per tutti questi eventi acquisirà un frame poi andrà al successivo e acquisirà un altro frame poi al successivo e così via ciclando altrimenti avete finish entire events first quindi lui dopo aver finito il primo evento passerà al secondo e così via quando usare l'uno e l'altro io con l'rgb uso rotate through events perché preferisco fare un r un g e un b un r un g e un b voi direte perché perché preferisco avere la distribuzione migliore anche a livello di gradienti e segnale nell'arco della serata e non voglio privilegiare il rosso il verde il blu quando posso fotografare l'oggetto che è più basso o ha lo zenith quindi per l'rgb preferisco fare questa roba qui altrimenti quando faccio banda stretta visto che i filtri non sono parfocali preferisco fare un filtro alla volta con l'rgb essendo parafocali non ho questo problema della messa a fuoco quindi posso ruotare tranquillamente per quanto riguarda invece gli eventi che dicevamo il menu è abbastanza ricco di molte diciamo molti sottomenu e informazioni ma vediamo quelli principali innanzitutto la prima cosa che volete fare mettere il check run sugli eventi che volete che vengano eseguiti la tipologia del dell'evento il filtro che volete utilizzare che so ad esempio io ho caricato il profilo dove ho i filtri lrgb e halfa quindi che so se volessi fare un un hrgb potrei fare un r poi dirgli il suffisso da aggiungere al file che banalmente lascerò r il tempo di esposizione che so mettiamo 180 secondi il binning che voglio utilizzare per quante volte quanti frame voglio acquisire così che so mettiamo un numero a caso mettiamo 60 potrei fare la stessa cosa poi per g e qui andiamo a mettere l'halfa facciamo delle pose da 300 secondi e mettiamo che io voglia fare anche anche qui 60 posi di halfa anzi forse sono un po esagerate 60 in proporzione ne farai mettiamo 30 allora questo è un po tutto nel senso che quando quando siete pronti quello che faccio io che vi dicevo prima se voi avete detto ad sgp di muovere e centrare il bersaglio nessun problema andate direttamente su run sequence lui muoverà la vostra montatura punterà con la regione di cielo farà il plate solve e poi partirà con la sequenza farà partire lato guida se non l'avete fatta partire già voi con phd2 se non avete fatto partire phd2 e gli avete impostato il path lui lo lancerà selezionare la stella di guida insomma farà un po tutto da solo poi lo vedremo anche sul campo vorrei fare una puntata diciamo dove vi faccio vedere proprio il mio workflow senza metterlo in una puntata specifica per farvi vedere un po il tutto in questi episodi cerco di andare nel dettaglio in ogni aspetto di sgp ma poi vi farò vedere nell'insieme in una serata a parte come lo utilizzo nel pratico così avrete un'idea del tutto messo insieme vi dicevo quello che faccio io invece non non utilizzando quella funzione al momento in cui sta per partire la sequenza quello che faccio io e quando sono sono pronto che diciamo ho fatto ho fatto la mia messa a fuoco perché è una cosa molto importante fare la messa a fuoco prima del plate solve altrimenti se non vede le stelle non avrà modo di fare il plate solve quindi di solito io che faccio faccio l'allineamento polare dopodiché faccio la messa a fuoco una messa a fuoco diciamo buona sulla polare e dopodiché faccio parte prima di far partire la sequenza vado a centrare da qui quindi apro il target settings faccio center now e lui parte con il centering quindi fa lo slew e va a puntare l'oggetto del cielo profondo che voglio fotografare qui avete anche se avete il rotatore è molto comodo e come sempre anche per la validazione dell'angolo in frase di plate solving vi dirà l'errore dell'angolo quindi una volta che il mio oggetto è stato centrato quello che vado a fare è rifare la messa a fuoco in quella zona del cielo verifico che il fuoco sia il migliore che possa ottenere in quella serata la seconda cosa che faccio apro phd e vado a fare la calibrazione in quella regione di cielo sto ultimamente tendendo a fare sempre la calibrazione per serata e utilizzare il guiding assistant avevo cominciato con la calibrazione del meridiano ho avuto qualche problema in alcune regioni di cielo che ho poi risolto andando a fare la calibrazione volta per volta quindi ecco faccio la messa a fuoco faccio partire pcd2 prendo la stella di guida faccio la calibrazione faccio partire la guida vedo come si comporta quando sono soddisfatto dico ok sono pronto per partire da run sequence e da lì parte il tutto una volta che è partito ragazzi c'è ben poco e voi dobbiate fare se non tenere sotto controllo i valori che avete poi li vedremo nello specifico in un altro episodio o in particolare preferirei vederli proprio nella serata in cui vi faccio vedere come lo utilizzo quindi vari valori come statistiche d'immagine o qui lo storico della messa a fuoco delle stelle qui avete l'avanzamento della sequenza ad esempio dipende da come avete organizzato i vari moduli di sgp però ecco è diciamo pressoché tutto l'unica cosa che dovete fare voi se ad esempio abbiamo visto una puntata precedente il flip al meridiano se lui non fa il flip in automatico lo dovrete fare voi ovviamente perché altrimenti la vostra montatura il vostro telescopio andrà a sbattere sul sul treppiede questa è una delle cose che dovrete tenere in considerazione ma una piccola chicca molto veloce che volevo farvi vedere che qui avete una cosa stra stra figa e che è il il planning tool il planning tool come funziona vedete questa è la mia californiana e lui mi dice l'altitudine nel nel cielo in base all'ora del giorno quindi lui mi permette di pianificare l'orario di inizio e di fine della sequenza semplicemente andando a cliccare con il sinistro e poi con il destro quindi partirà da 25 gradi a 50 gradi più o meno a che ora abbiamo messo saranno circa sì le 18 e 10 fino alle 3 di notte 3 3 e mezza di notte e voi direte vabbè ma che serve fare questa cosa qui con un soggetto singolo potrebbe anche non servire mettiamola mettiamola così il fatto in realtà che voi possiate stoppare o mettere in pausa la sequenza a un determinato orario già di per sé è molto molto utile se sapete ad esempio che farà giorno che ci sarà qualcosa che vi impedirà a una certa ora di andare avanti perché c'è un ostacolo c'è un palazzo ok già questa cosa è utilissima ma voi immaginate se avete più soggetti che volete fare in una serata vi faccio vedere super velocissimamente vado a creare un vado a chiudere questa finestra insi tutto e con il framing mosaic wizard vado a scegliere un altro soggetto mettiamo m42 già forse avete capito dove sto andando a parare e quello che mi permette di fare per l'appunto è di pianificare più oggetti nella stessa serata anche se fate un mosaico ogni pezzo del mosaico è un target che voi potete andare a specificare quindi mettiamo che io voglio fotografare la mia bella nebulosa di orione e andiamo a metterla così tra l'altro ragazzi mi sono reso conto che non ci entra il mio campo inquadrato sarà un problema quest'inverno comunque diamo create sequence diamo append target to sequence andiamo a togliere questo rotator valide camera angle e adesso vedrete che c'è california nebula ed m42 quindi io che cosa posso fare con il planning tool posso dire ok io da fino a poco prima di mezzanotte voglio fare la california e poi per qualsivoglia motivo ok vado a chiudere qui e poi per quanto riguarda m42 gli posso dire ok da quest'ora invece voglio partire con m42 scusate che mi parte ok voglio fare m42 beh come avete visto ragazzi è una figata pazzesca perché lui con questo planning tool vi permette di fare più soggetti della stessa serata ed è una cosa non da poco una feature veramente molto molto interessante infine qui l'unica cosa mi sento di dire oltre al fatto di esplorare questi menu perché sono molto intuitivi e molto si capisce molto come funziona il software che sono parlanti ecco i pulsanti e le varie scritte le varie label nei menu però una cosa molto importante che voi potete fare se voi andate a vedere qui nella nella sequenza una cosa che esempio io potrei decidere di fare sulla california nebula e teo rgbh alfa qui potrei andare aprire questo menu andando a cliccare sul pause indicator qui potrei decidere di dire sgp esempio di mettere in pausa la sequenza di parcheggia il telescopio non penso però di mettere in pausa la sequenza di far partire l'autofocus potrei dire di mettere in posto la sequenza e dire ok rifare messa a fuoco perché cambia il filtro quindi mi avvisa che è cambiato il filtro lui rimane in pausa fin quando io non gli do un input e dico ok puoi ripartire insomma qui ci sono tantissimi eventi che si possono far partire da sgp pre evento post post evento perché questo è prima che parta l'evento questo invece dopo che è terminato l'evento voi direte perché c'è che differenza c'è potrei mettere un pre evento all'evento successivo però a volte è l'ultimo evento e non avete un evento successivo quindi post event potrebbe essere utile in quel caso insomma ragazzi abbiamo visto con un po questa parte di sgp per la creazione delle sequenze per il framing e il mosaic è uno strumento ultra ultra potente probabilmente per coprire ogni singolo dettaglio e aspetto del software ci vorrebbe un eternità ma spero che questo vi dia un'infarinata generale anche abbastanza del dettaglio sulle funzionalità più importanti di questa parte del software io sinceramente non so come farei a prescindere da un software del genere perché davvero molto molto potente utile e far partire una nuova sequenza una volta che ci prendete la mano avete visto sono pochissimi step è davvero un gioco da ragazzi quindi come avete visto ragazzi con pochi semplici click si può creare una sequenza a far partire il tutto programmare data inizio data i fine filtri cambio dei filtri tutto quello che volete e con un software del genere vi assicuro una volta che ci prenderete la mano e imparerete come creare le vostre sequenze beh tutto quello che dovete fare è sedervi rilassarvi e godervi una bella serata sotto il cielo stellato per la puntata di oggi ci fermiamo qui abbiamo visto come fare il framing e anche come fare i mosaici in sgp perché l'unica differenza è che vi creerà un target per ogni pannello del mosaico potete anche programmare più soggetti sulla stessa serata abbiamo visto con il planning tool che è davvero super intuitivo vi fa vedere l'altitudine potete mettere data inizio data i fine potete andare ad impostare degli eventi per mettere in pausa la sequenza se dovete fare il fuoco o parcheggiare il telescopio o qualsiasi cosa voi vogliate fare è un software altamente personalizzabile come sempre se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace se avete domande riguardo a questa parte sgp fatela nei commenti in basso se vi piace questo canale come dicevo all'inizio iscrivetevi e cliccate sulle campanelle in basso per attivare le notifiche ed essere avvisati ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti noi per stasera ci fermiamo qui e io vi auguro una buona serata dei cieli sereni e ciao